carta stampata rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola iniziamo con la nostra rassegna stampa dal Corriere della Sera fiducia a Draghi i 5 stelle franano alla Camera 536 sì e 56 no movimento 5 stelle nel caos altri 31 ribelli annunciata l'espulsione di 15 senatori così si è scelta l'Europa l'intervista a Sassoli maturità niente scritti la pandemia trattativa con le regioni che non vogliono passare in zona arancione segre l'appello agli over 80 vaccinatevi senza paura passiamo alla Repubblica vaccini Draghi accelera a scuola fino al 30 giugno così sarà la maturità via dall'inferno dopo 5 anni ora datemi le olimpiadi la stampa Draghi modello Genova per il recovery dopo in Schweitzer vittima di un complotto ora datemi le olimpiadi Alex il più forte di tutti che fa paura come Pantani passiamo a Libero altra maratona pro Draghi il Vaticano più evoluto dell'Italia il Papa licenzia chi non si vaccina Bergoglio inflessibile con i dipendenti che rifiutano allineazione multe anche per chi non indossa la mascherina o viola la quarantena crimi Ponzio pelato si lava le mani dei grillini soltanto la cartabbia può sistemare la giustizia passiamo allora a il giornale dai 5 stelle alle stalle grillini al capolinea Draghi contro la burocrazia semplificazione giusto processo Schweitzer assolto dopo 5 anni niente doping fu incastrato l'olimpionico è ancora squalificato l'incognita Salvini ma Giorgetti fa da garante lo spazio al centro che fa gola a Renzi e divide i moderati passiamo al fatto quotidiano i 5 stelle cacciano chi è fedele ai 5 stelle incoerenza chi va con Berlusconi e due Matteo e Spelle chi non ci va fiducia alla camera Draghi 535 sì 56 no 5 estenuti 20 dissidenti 5 stelle grillo e crimi siete fuori ma casaleggio i ribelli non vogliono scissioni Renzi dovrebbe sotterrarsi per quegli elogi alla rabbia passiamo alla verità inchieste disastri arroganza perché alcuri deve dimettersi lo sfascio grillino consegna al centro-destra le chiavi del governo lo dicono i numeri il lockdown uccide il tempo appello a Draghi via Arcuri metta fine al disastro Salvini è processo del GIP che violò il lockdown da Mato ora nei guai sull'Amazonia continuiamo con il messaggero Draghi lotta alla burocrazia alimenta l'illegalità stretta sui colori Lazio a rischio un selfie poi la uccide ma l'alibi non regge Turchia la donna era incinta lui voleva incassare l'assicurazione Facebook si vendica Australia senza social per le emergenze passiamo allora a il mattino di Napoli Draghi 5 stelle a pezzi Napoli al tappeto ma non è finita Cutolo io l'ultimo a parlargli ammise l'omicidio di Salvi all'intervista proprio per il mattino andiamo allora al resto del Carlino vaccini in ass in Veneto e da Arcuri un vaffa al grillo la camera volta la fiducia a Draghi grillini a scissione 30 espulsi di Battista chiama i dissidenti rovinato delle accuse ma lui non era dopato il tribunale di Bolzano scaggiona schvazzer la chiesa si ferma a Bose l'ex priore resiste al Papa il riformista una modesta proposta per battere la mafia fuciliamoli crisi di nervi tra i grillini infine uscimmo a liquidare le 5 stelle Draghi critica il processo e la politica carceraria passiamo a domani alla notte in cui tutti i draghi rischiano di essere grigi il PD al bivio restare fuori o governare con Salvini ed ancora la notizia Ville gioielli auto di lusso la bella vita di Benotti in company con i milioni delle mascherine giornaloni e poteri forti ci stanno riuscendo nei 5 stelle c'è aria di scissione il manifesto Whirlpool e Ilva tocca a Giorgetti stelle filanti movimento 5 stelle in ebolizione continuiamo allora con il dubbio la scissione di 5 stelle a son di carte bollate nessuno sarà abbandonato la promessa di Draghi sul carcere non era doping ma un complotto il processo sommario e la vita distrutta ma Schwarzer era innocente ed ancora passiamo a Leggo regioni arancioni e zone rosse rieco gecola romavola la sapienza si torna a lezione donna coltellata arresta il fratello avvenire Draghi fa il bis e parte con i nuovi piani meno inclusione regioni torna all'arancione valle d'aosta in bianco ed proseguiamo con metro governo si parte ora bisognerà correre presser balance e su Marte adesso è caccia alla vita ancora il quotidiano del sud questa volta o mai più avviso ai naviganti vogliamo far finta di niente continuare a polemizzare ignorando la reale situazione dell'italia scuola la spesa pro capita a Milano e quattro volte che a Napoli vaccini ricoveri mezzogiorno le emergenze e come affrontarle passiamo dunque al gazzettino il quotidiano del nord est caos vaccini scontri indagini un anno di covid lo speciale ed ancora l'analisi facebook e gli altri l'unione europea non può più stare a guardare passiamo al triestino di 33 anni caduto in un canalone l'undici febbraio al suo fianco il cane asce draghi in cassa la fiducia bis i cinque stelle la rese dei conti ancora dal piccolo siamo da zona gialla in ghippo vaccini a scuola eh passiamo allora al messaggero veneto nella scuola non decolla la campagna dei vaccini cade in montagna resiste con il cane per sette giorni al freddo prima dei soccorsi immunizzata centun anni fece l'interprete per ernest hemingway cervignano in lutto per angelica morta di leucemia passiamo allora ai giornali economici abbiamo il sole ventiquattro ore ambiente 640 progetti in attesa dell'ok draghi accelerare i processi decisionali il ritardo aiuta gli illeciti la pandemia spinge il debito oltre quota a 355 per cento del pil globale italia oggi il socialometro contro l'evasione comba il codice appalti da gettare il sistema va basato sulla direttiva dell'unione europea milano finanza cdp vuole contare in team volkswagen studia l'ipo della porsche per finanziare i piani per l'auto elettrica mediaset prende i diritti streaming per la champions se sfida sky sulla pay passiamo allora ai giornali sportivi iniziamo con la gazzetta dello sport ora fate marciare alex milan come pesa il derby beffa belgrado due due al novantatresimo la stella rossa di stanco vice pareggia in dieci inter quanto pesa ericsson roma due piedi agli ottavi napoli ne ha uno fuori caglia ritoro notte da brividi nicola cerca la prima vittoria l'intervento quella juve impreparata passiamo al corriere dello sport schwarzer fu complotto giplo scagione lancia accuse ride solo fonseca la settimana europea si chiude male una vittoria in quattro partite gattuso errori da polli ma siamo contati brandelli viola serve rabbia tutto sport dategli i giochi il tribunale alex schwarzer incastrato juve sotto processo società furiosa con la squadra per la figuraccia con il porto sotto accusa betancure la deconcentrazione collettiva pirlo scuote la squadra ma dopo bonucci perde anche chiellini per almeno due settimane chiesa unica nota positiva artur salterà il crotone si scalda fagioli europa league beffa milan finisce due a due roma ok napoli k o toro nicola il a cagliari più forti del covid vince luna rossa si torna in mare questa notte le regate 5 e 6 è tutto per il nostro appuntamento con l'edicola la nostra rassegna stampa che torna puntuale lunedì prossimo come al solito alla stessa ora avete ascoltato carta stampata rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola